Un 76enne di rasura, Oreste Pezzini, ha perso la vita venerdì sera nei boschi della Valgerola dopo essere scivolato in un canale. L'uomo era uscito di casa per andare in cerca di funghi e in serata il mancato rientro ha allarmato i familiari che hanno quindi chiesto aiuto. Durante una prima ricerca, nelle zone in cui si immaginava potesse essersi recato, sono state trovate tracce di scivolamento in un'area molto impervia. La centrale, intorno alle 19, ha attivato il soccorso alpino della stazione di Morbegno con 12 tecnici impegnati. Sono stati allertati anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. L'uomo è stato avvistato in un canale molto ripido dove era caduto per un centinaio di metri. È intervenuto l'elesoccorso di Sondrio di Areu che ha calato con il verricello il tecnico del soccorso alpino e l'equip sanitaria. Il medico non ha potuto fare altro che constatare la morte. L'uomo è stato recuperato e portato a valle intorno alle 21.30. Oreste Pezzini è la terza vittima di questa estate, in Valtellina tra i cercatori di funghi. Risalgono alla fine di luglio gli altri due incidenti fatali nei boschi avvenuti ad Albosaggia e Valmasino, a distanza di poche ore l'uno dall'altro.